Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata al vertice sulla sanità che si è svolto a Palermo sul miglioramento dell'offerta agli utenti. A breve potrebbero essere attivi a Gela, servizi come l'Utin e la Breast Unit che la città attende ormai da tempo. Sentiamo. Vertice sulla sanità per il miglioramento dell'offerta agli utenti. All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi, il direttore generale della Sv2 di Caltanissetta Carmelo Iacona, il direttore sanitario Marcella Santino, il direttore amministrativo Alessandro Mazzare, il deputato regionale del Partito Democratico Giuseppe Arancio che ha espresso soddisfazione per gli impegni assunti al tavolo regionale su modalità e tempistica del miglioramento della sanità. Partiamo dall'Utin, intanto si è deciso il cronoprogramma e le modalità. Si farà il bando presso l'Urega in modo da non perdere tempo, che loro sono specializzati proprio per le gare pubbliche. Quindi l'Urega farà questo entro la fine di dicembre, prima di gennaio, quindi per non perdere tempo e quindi per poterlo accelerare. La logistica, quindi il reparto con le chiavi in mano. Quindi la prima tappa sappiamo come si fa e quando si farà. Poi per quanto riguarda la Breast Unit, altro servizio atteso dalla nostra comunità, appena approvato il piano aziendale, l'atto aziendale, partirà. Entro una settimana verranno dati i reparti di ortopedia al quarto piano, verrà reso fruibile il reparto per la talassemia. Entro un mese l'Utic verrà allocata nel reparto definitivo. Poi si è parlato anche di attrezzature. Noi abbiamo la necessità di una seconda TAC, quindi non appena si è parlato di farla con la CONSIP per accelerare i tempi, non appena praticamente verrà pubblicata avremo la possibilità di acquistarla. Poi si è parlato anche di un ecografo morfologico che è stato già acquistato e quindi se non è stato dato sarà dato immediatamente presso la nostra divisione di ostetizia e ginecologia perché un'attrezzatura di questo tipo è necessaria per il nostro territorio. Per le mamme che aspettano un bambino avere la possibilità di fare un esame di questo tipo serve a fare prevenzione e a rendere sicure le gravidanze. Bisogna accelerare in modo da poter dare i servizi alla città perché in questo momento la sanità ha qualche difficoltà. A proposito di qualche difficoltà, la programmazione che era stata posta in estere seguendo le linee della normativa regionale non trovava copertura per oltre 700 mila euro. Questa copertura ci sarà o non ci sarà? Questo è stato tema anche della discussione perché si è parlato anche di una quota aggiuntiva c'è l'impegno non appena sarà completato la revisione di tutte le piante organiche della regione di mettere in campo delle risorse aggiuntive per dare più agio alle nostre piante organiche perché riguardano le piante organiche di Gela ma di tutti gli altri ospedali. Iniziative intraprese dal nuovo Consiglio di Amministrazione sulle problematiche più urgenti che interessano la zona residenziale. Il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea del Comitato di Quartiere di Macchitella che si terrà domenica 15 novembre prossimo alle 10 nel locale del Cineteatro Antidoto. Saranno presenti i componenti dell'Aggiunta Municipale e i consiglieri comunali. Uso di stupefacenti ed abuso di piante alcoliche tra i minori è stato il tema affrontato questa mattina nell'auditorium Virgilio Argento del plesso Paolo Emiliani Giudici di Gela nell'ambito degli appuntamenti inseriti nel progetto di educazione all'affettività promosso dall'Istituto Comprensivo San Francesco di Gela. Presente il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri Maggiore Valerio Marra. Durante l'iniziativa di oggi è stato rispettato un minuto di silenzio in ricordo di Ilenia Schembri, 35 anni, scomparsa nelle ore scorse a causa di un tumore. La donna lascia il marito e due figli di 7 e 12 anni. Oggi è per noi un giorno triste e abbiamo voluto ricordare una nostra mamma che ai primi incontri era qui con noi, che è mamma di due nostri alunni e quindi la scuola oggi la ricorda e l'ha ricordata affettuosamente. Ho visto grande partecipazione sia da parte dei genitori, soprattutto con le loro domande e quei siti che mi hanno posto su due temi importanti, l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di sostanze alcoliche che interessano in modo particolare i giovani. I genitori sono i primi percettori di queste situazioni di disagio e noi lo cerchiamo di fare attraverso un'azione di prevenzione che quindi rientra anche l'informazione di questa mattina che abbiamo appena ultimato e anche l'azione di repressione sul territorio attraverso l'uso dei sistemi etilometrici, precursori per il controllo sull'abuso di sostanze alcoliche, quindi la guida in stato di ebrezza, il contrasto alla guida in stato di ebrezza e tutti i sistemi che noi abbiamo anche per l'uso di sostanze stupefacenti e per accertarne il possesso. Naturalmente da qui discendo una serie di conseguenze sul piano giuridico che sono la segnalazione alla prefettura per quanto riguarda l'uso di sostanze stupefacenti e la segnalazione all'autorità giudiziaria per quanto riguarda la guida in stato di ebrezza quando costituisce reato e poi una serie di conseguenze anche sul piano patrimoniale, quindi il sequestro, abbiamo parlato anche della confisca dei veicoli e dei motoveicoli e la possibilità sicuramente che la legislazione ci dà di consentire a questi minori che dovessero incappare in una serie di reati anche per la guida in stato di ebrezza di non conseguire la patente di guida se non prima del ventunesimo anno di età per la categoria B. Gli appuntamenti continueranno? Sì, per questo anno 2015 questo è l'ultimo, però nel 2016 abbiamo già un'agenda piena per esempio vi dico solo, vi anticipo, che verrà almeno due volte il vescovo. La Cassa Forense, oggi nuovi regolamenti dei contributi e dell'assistenza, si tratta del tema del convegno promosso dalla Cassa Forense, ordine degli avvocati di Gela e il comitato pari opportunità degli avvocati, appuntamento previsto per mercoledì 18 novembre prossimo alle 15 nell'aula conferenze, avvocato Moscato del Tribunale. Uno spettacolo teatrale di carattere sociale con la partecipazione di Salvo Larosa e Litterio si terrà lunedì prossimo alle 12 nella sala teatro della casa circondariale di Contrada Balate a Gela. L'iniziativa è stata progettata con la collaborazione della Proloco di Gela. Prima edizione di una due giorni di formazione e confronto rivolta ai giovani amministratori del sud-est della Sicilia e tutti i giovani impegnati nella società. È previsto sabato 14 e domenica 15 novembre prossimi nei locali della Camera di Commercio di Ragusa e al Palazzo Grimaldi di Modica. Si chiama il Weekend del Buon Governo e ne abbiamo parlato con alcuni degli organizzatori. Qual è la finalità dell'iniziativa che voi portate avanti, che avete ribattezzato il Weekend del Buon Governo? Nasce dal voler creare una o due giorni in cui parteciperanno diversi esponenti della politica, delle realtà associative territoriali, ma anche esponenti della cultura, tra cui per esempio ottimi relatori, un nome fra tutti, il professore di storia contemporanea dell'Università di Catania, il professore Barone, proprio per far sì che dai problemi nascenti nelle realtà locali si trovino le soluzioni. Quindi è quello di creare uno scambio di idee, un brainstorming come lo definirebbe Eugenio Catania, in modo tale da poter trovare le soluzioni che oggi la classe magari politica del territoriale non riesce a trovare e quindi portarle poi all'interno delle nostre realtà territoriali. Lo scambio di idee avverrà, come dicevo prima, in una o due giorni, che sarà tenuta presso la sede della Camera di Commercio di Ragusa il sabato 14 e domenica 15 invece presso il prestigioso Palazzo Grimaldi di Modica. Un vero e proprio laboratorio politico e amministrativo, se vogliamo. Sì, nell'occasione io avrò l'onore di rappresentare la città di Gela e l'associazione Renovazio che ha sponsorizzato il mio intervento sulla crisi dell'area industriale gelese, che sono già dei lavori disponibili online su alcuni siti testate locali e misto con un lavoro che già è stato effettuato presso l'Università di Cantabria, in Spagna, sulla rigenerazione urbana di Bilbao, per fare capire gli esempi delle politiche di buon governo europei con la situazione attuale gelese. Si terrà sabato 21 novembre alle 20.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il musical The Wits di Charlie Small, che sarà portato in scena dal Centro Giovanile Musica e Arte Cesma. Il biglietto di ingresso sarà fornito a chi porterà alla Chiesa Regina Pacis alla Piccola Casa della Misericordia, dal 15 al 21 novembre, la spesa per chi è povero. Sbarca in Sicilia l'Atlante Italiano dei conflitti ambientali, con un tour che vedrà coinvolte le città di Catania, Gela, Licata, Niscemi e Ragusa. La tappa di Gela si svolgerà sabato 14 novembre alle 10.30 presso il Centro Congressi di Macchitella. Sarà presente Salvatore Altiero, attivista dell'Associazione Assude del Centro di Documentazione sui conflitti ambientali. Gli incontri vedranno protagonisti i comitati territoriali che si battono per un altro mondo possibile. Delle informazioni utili per spiegare ai bambini che cos'è l'obesità e quali sono le patologie che sono collegabili a questo che è un fenomeno in continuo aumento, soprattutto in Europa. Sì, in effetti l'obesità è qualcosa che interessa prima gli Stati Uniti, ma adesso anche noi in Europa abbiamo dei dati allarmanti. Questo argomento viene portato avanti all'interno del piano straordinario delle aree a rischio, voluto dalla regione siciliana e noi come azienda e il nostro direttore generale ha aderito chiaramente a questa attività e quindi parleremo con i ragazzi di questo problema cercando di sviscerarlo e soprattutto abbiamo già somministrato un questionario per misurare il grado di apprendimento che riproporremo alla fine dell'intervento. Dottoressa, quali sono gli argomenti principali sui quali baserà la sua relazione e quali sono le risposte che si aspetta dai ragazzi? Allora, parleremo dell'obesità proprio in generale, che cos'è l'obesità, l'epidemiologia, daremo dei dati ai ragazzi, faremo capire le differenze tra regione a regione e anche per quanto riguarda le varie nazioni punteremo ovviamente sull'Europa, facendo capire che però in America e negli Stati Uniti, come già diceva il dottore Migliore, è un fenomeno ancora più in ascesa. Poi parleremo delle varie patologie che possono essere determinate dall'obesità e anche le patologie che possono determinare l'obesità. Non sempre il bambino ha tendenza all'obesità perché mangia molto, tanto è vero che lei è una endocrinologa, può essere un campanello d'allarme per altri tipi di problemi. Perché ci sono delle patologie che possono stare alla base dell'obesità e quindi l'obesità non scaturisce solamente da un problema alimentare ma anche dalle patologie che sottendono e stanno alla base dell'obesità. Alimentazione e stili di vita, imparare a stare a tavola è uno degli elementi fondamentali, uno dei principi che seguite anche qui all'interno della scuola a partire dall'infanzia. Assolutamente sì, questo è chiaramente un progetto, il nostro curriculum verticale prevede l'educazione alimentare e la corretta alimentazione. E' chiaramente ancora di più per i ragazzini più grandi, più grandicelli della scuola secondaria di primo grado che poi sono coloro i quali probabilmente cominciano a seguire meno i consigli e le indicazioni dei genitori. Per cui sono più a rischio di devianza da un punto di vista dell'alimentazione. Dobbiamo renderli consapevoli in continuità con quello che loro chiaramente svolgono in classe grazie alla collaborazione quindi anche di enti esterni del territorio, in questo caso l'azienda sanitaria provinciale Cico Adiuva, facendo rete e dando testimonianza che gli interventi di sistema nelle scuole sono fondamentali per un raccordo tra scuola e territorio. Una conversazione sulla nostra Sicilia per rivisitare luoghi, persone, tradizioni, linguaggi si terrà domani alle 10.30 presso l'Istituto Comprensivo Gela e Butera nel plesso Cantina Sociale di Via Pablo Picasso ad animare un evento in cui i veri protagonisti saranno gli alunni dell'Istituto di cui è dirigente la professoressa Agata Guelli, saranno il dottore Antonio Fragapane, laureato in giurisprudenza e giornalista, autore del libro Appunti di Sicilia e il sociologo e giornalista Francesco Pira, docente di comunicazione all'Università di Messina. Era questa l'ultima notizia della prima parte del nostro telegiornale, adesso la linea va alla regia per la pubblicità, tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016 dell'Uni3, l'Università delle Tre Età di Gela. Si terrà sabato 14 novembre prossimo alle 17.30 presso l'auditorium dell'Iceo Classico Eschilo di Gela. Saluteranno gli ospiti Pinarces Giordano, presidente onorario Unitre, Angela Scaglione, attuale presidente, Gioacchino Pellitteri, dirigente del liceo e il sindaco Domenico Messinese. Una trentina di studenti che frequentano l'Istituto Tecnico Industriale Marsele di Gela, diretto da Serafina Ciotta, hanno donato il sangue nell'ambito di un lavoro sinergico e costante tra il mondo scolastico e quello del volontariato. Appuntamento questa mattina nei locali del centro di raccolta fisso di Via degli Appennini. La scuola deve essere un soggetto che si occupa della formazione dei propri allievi e priorità dell'Istituto è formare gli studenti come cittadini attivi che siano in grado di dare un contributo alla collettività. È il pensiero del dirigente scolastico. L'Istituto Tecnico Industriale ha sempre creduto nei progetti di solidarietà e in maniera particolare in questo progetto per aiutare l'ADAS nella donazione di sangue. I nostri ragazzi sono sensibilissimi e noi insegnanti e soprattutto i dirigenti che si sono sosseguiti in questi anni in maniera particolare dall'anno scorso e anche quest'anno con la nuova dirigenza abbiamo sempre creduto nei progetti di solidarietà e abbiamo cercato di sensibilizzare gli alunni ad una responsabilità civile e sociale proprio per creare in loro una coscienza di cittadini attivi e responsabili nei confronti degli altri, di coloro che potrebbero avere bisogno. I nostri alunni si sono subito dimostrati sensibili a questo infatti ci sono stati diversi incontri con l'associazione ADAS già sin dall'inizio dell'anno scolastico e in moltissimi ragazzi maggiorenni hanno partecipato e sono anche oggi per esempio qui presenti per donare. L'appuntamento di oggi fa parte del progetto FIDAS ADAS Scuola curato da Simona Averna e dal dottore Ghetano Cassarà. Il progetto Scuola va avanti, va avanti con grande entusiasmo e ringraziamo i dirigenti perché veramente ci stanno dando un sostegno non indifferente soprattutto parlando di solidarietà. Il progetto dell'ADAS è un progetto molto importante perché aiuta a salvare le persone tramite il nostro sangue. Questo progetto è venuto a conoscenza tramite la scuola che si è fatto anche molto promuotere in questo discorso. L'ADAS tramite le scuole riesce a organizzare dei gruppi nelle scuole per aiutare le persone. Io invito i miei coetanei, anche i ragazzi molto più grandi a provare questa esperienza perché è un'esperienza che ti può segnare la vita e ti può anche fare cambiare in modo di vedere la vita perché sai che da seduto donando il tuo sangue può aiutare persone che magari non conoscerai mai. Quindi ragazzi l'invito che vi faccio è di venire qui a provare questa esperienza e se riesci a coinvolgervi di continuare in questa esperienza. E adesso parliamo di calcio. Dopo il pareggio casalingo con il Mazzara, il Gela cerca l'acuto in trasferta. Domenica impegno contro la Libertas. Il difensore centrale Fabio Campanaro invita i tifosi a stare vicino alla squadra. Sentiamolo. Fabio Campanaro, facendo un passo indietro e ritornando alla partita di domenica il risultato vi ha lasciato l'amaro in bocca. Parliamo del risultato d'occhiali conseguito con il Mazzara. Sì, per come è andata la partita, soprattutto il secondo tempo, diciamo che meritavamo la vittoria. È anche vero che alla fine stavamo rischiando di perdere la partita. Sarebbe stata una beffa atroce. Ci siamo presi un bundo con una delle squadre più accreditate del campionato e l'abbiamo fatto anche giocando bene. Siamo, diciamo, soddisfatti della prestazione. In questi casi, quando non si riesce a vincere, l'importante è non perdere. Certo, soprattutto quando sono scontri diretti. L'importante è non fare andare chi sta accanto a te o anche dietro di te. Diciamo che un bareggio ci può anche stare. L'importante, come hai detto, tu non era non perdere. Ora due trasferte consecutive. La prima, domenica prossima, a Ragalmuto, contro la Libertas, che è a Naspain e classifica. Vedremo il Gela combattivo. Per forza, perché lì devi avere tanta determinazione e tanta grinda perché vai a giocare su un campo di terra. Lì dobbiamo evitare di fare delle giocate leziosi, dobbiamo essere cinici e cercare di conquistare questi tre punti. Per prepararvi al meglio, il tecnico Toto Brucleri in questi giorni vi ha fatto allenare sulla spiaggia. Diciamo che stiamo facendo dei carichi di lavoro che ci possono servire per il futuro. Sono importanti fare certi tipi di lavoro per cercare di avere quello sprint. Quando gli altri inizieranno a calare, noi dobbiamo essere sempre al 100%. Dati alla mano, poca gente allo stadio per seguire il Gela. Secondo te che succede? Ma ormai, guarda, questo è il terzo anno che sono in questa squadra. La gente aspetta solo le finali dei play-off, la vittoria a campionato. La gente deve anche cercare di capire che per arrivare fino a quel punto abbiamo bisogno di loro già da adesso. Purtroppo è una questione di mentalità che dovrebbe essere cambiata. Speriamo che saremo noi a far cambiare idea settimana dopo settimana e magari con qualche vittoria in più. A partire da domenica? Certo, senza dubbio. Il Sor Optimist Club di Gela in collaborazione con l'Istituto Culturale di Sicilia per la Cinematografia Onlus organizza in occasione dei 120 anni del cinematografo un seminario di storia del film tenuto dal regista Gianni Virgadaula al fine di promuovere la cultura e di offrire alla città un corso che può giovare a chi intenda intraprendere o approfondire studi che riguardano il cinema e in genere la comunicazione. Il corso si svolgerà a Gela dal 23 al 27 novembre dalle 16.30 alle 18.30 presso il Museo del Cinema che sorge nei locali del Palazzo Pignatelli a Gela. Siamo all'informazione cinematografica e De Marzia nel sopravvissuto il film in programmazione al Cineteatro Antidotto di Macchitella. Sono due gli orari di rotazione della pellicola 18.30 e 21.30. Sarà invece a Mariangela D'Abraccio la prossima protagonista della stagione teatrale all'eschio. L'appuntamento è previsto per sabato 14 novembre alle 17.15 e alle 21.15. Gli attori porteranno in scena Cancun. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino di Piazza Salandra dalle 18.30 alle 20.30. Comincia invece mercoledì 18 novembre la stagione teatrale al Cineteatro Antidotto di Macchitella. La compagnia Antidotto si esibirà in abbriscola per due. Si tratta di due atti di Tiziana Guarneri appuntamento alle 21.30. Lo spettacolo sarà proposto anche giovedì 19 novembre sempre alla stessa ora. Per informazioni bisognerà chiamare il numero 0 933 82 27 07. Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordiamo che notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it e naturalmente sul nostro televideo. Arrivederci. Grazie a tutti.